Per Paolo Adesì, la stella abruzzese della Nazionale di Ciclismo Paralimpico. Qui a Pineto giochi un po' in casa per questa preparazione in vista di quello che sarà l'appuntamento degli appuntamenti? Sì, partiamo in vantaggio perché giocare in casa porta sempre bene. Qui c'è da ringraziare veramente tanto il comune di Pineto perché ha abbracciato in pieno questa nostra idea di fare un ritiro a Pineto in questo periodo. Il team GoFastra, la mia squadra che comunque si è prodigata per preparare il tutto. Sono contento perché far venire i miei amici, la Nazionale, nelle terre di casa e girare qui in bici insieme sarà sicuramente un motivo di orgoglio per me e soprattutto con la speranza che il tempo ci assiste qui ci si potrà preparare veramente al meglio. Anche perché insomma a Londra 2012 un po' è rimasta qui. Sì, Londra 2012 ormai è passata e adesso pensiamo in avanti. Ci sono stati già altri anni importanti con mondiali dove comunque i risultati sono stati buoni. Adesso pensiamo a questa Paralimpiadi, a prepararci al meglio. Vedremo un po' la rosa che sarà, che ancora non è definita quale sarà. Però comunque noi dobbiamo mettercela tutta fino alla fine. Adesso ci sarà però? Ma io per scaramanzia dico sempre non lo so perché comunque finché non vedrò i nomi, l'elenco dei nomi scritto dico che non lo so. Naturalmente ci si prepara sempre al massimo, si cerca di fare il più possibile. Questo anno ancora di più perché è un anno importante. Con quali aspettative si presenterà l'Italia? Come è la nostra squadra? Beh, intanto i ragazzi sono in testa alla classifica mondiale. Dieci corridori uomini più due donne già qualificate. Cerchiamo di trovare l'undicesimo per far posto a delle persone che lo meritano. E poi andiamo giù per cercare, magari migliorare Londra, ma almeno come Londra, le famose cinque medaglie d'oro.